Ciao a BetTaste.it! A Beautiful Day di Lynn Ramsey, titolo italiano per un titolo originale che fa You Were Never Really Here, tratto dal romanzo di Jonathan Ames, è un film che potreste amare o odiare. Perché è un film che cita moltissimi altri film, perché è un film che rielabora moltissime altre pellicole, perché è una continua per chi ama il cinema ed è cinefilo. È una continua rielaborazione un po' troppo di tanti titoli molto importanti, molto significativi del Novecento. Quindi è sicuramente una pellicola realizzata con grande cura da Lynn Ramsey, che è una regista che a me piace moltissimo, è scozzese, Ratcatcher e ora parliamo di Kevin. È stato un film adorato al Festival di Cannes dell'anno scorso, miglior sceneggiatura per la Ramsey, miglior attore protagonista per Joaquin Phoenix. Allo stesso tempo potrebbe irritare chi un po' dice ma perché questo gioco su Psycho, ma perché questo gioco su Taxi Driver, ma perché questo gioco su senza un attimo di tregua, ma perché Pulp Fiction, ma perché Leon di Besson. C'è un po' tutto dentro questo film e quindi rischia di un pochino scomparire dalla nostra testa perché poverino è schiacciato da tutti i suoi fratelli maggiori. Avete già capito, siamo soprattutto Taxi Driver, soprattutto tanto, tanto Taxi Driver. Perché? Perché tratto dal romanzo di Jonathan Ames che è già uno che ha giocato con il noir e con la detective story ai tempi di Born to Death, investigatore per noi alla sua serie 2009-2011 con Jason Schwarzman e Zach Galifianakis. Beh, non è proprio un investigatore privato alla Philip Marlowe, ma è un recuperatore non crediti ma ragazzine, è un uomo tormentato dal suo passato, è un cane sciolto, è un solitario come Philip Marlowe, ovviamente il grande detective privato Chandleriano. Questo personaggio amesiano, tratto dal romanzo di Jonathan Ames, è un ex militare, un ex agente dell'FBI con istinti omicidi, vive a casa con la mamma e per chi non avesse già capito la citazione sono proprio loro a citare Psycho. Ovviamente all'inizio del film Psycho che ultimamente è tornato con il prossimo film di Frank Matano, con Frank Matano protagonista, pensate un po', è anche citato dai grandissimi Fontane Stasi con Metti la nonna in freezer. Comunque, in avanti, Beautiful Day di Lin Ramsey, vediamo Joaquin Phoenix che non ne può più, che sta lì, che si aggira un po' distrutto e reduce di guerra come Robert De Niro di Taxi Driver, verrà mandato a recuperare una ragazzina e a quel punto parte, ovviamente un delirio che cita anche senza un attimo di tregua di John Burman. È un film molto violento, con una violenza estremamente stilizzata tipicamente anglosassone, come Burman quando andò a fare quel filmone con Lin Marvin che i produttori, che gli americani non capivano assolutamente perché era un film veramente astratto e di cui questo film è debitore in modo incredibile. Allora vedremo questo uomo barbuto, pieno d'acciacchi, senza parole, andare e partire. È un film molto pieno di macchie di sangue, è un film di sangue sudato, è un sangue molto liquido e molto caldo, come un po' anche il sangue, mi piace moltissimo il sangue di Game Night, questi dettagli del sangue. Ed è un film di scuola inglese al montaggio, quindi con flash al montaggio molto veloci, il montatore californiano, ma è un omaggio allo stile inglese del Maratoneta, a Venezia Un Dicembre Rosso Shocking di Nicolò Storio. Infatti il Maratoneta, che è il nostro bad school di Schleisinger, è un omaggio sia contemporaneamente sia a Game Night che un pochino anche a Beautiful Day di Lin Ramsey perché c'è questo montaggio flash tipicamente di scuola inglese che c'era anche nel Maratoneta, legato all'interiorità del personaggio protagonista che ha dei flash del suo passato, molto veloci. Jim Clark peraltro ci ha lasciato, grandissimo montatore inglese. Quindi c'è questo californiano al montaggio che cita Jim Clark, c'è Lim Ramsey che cita chiunque, c'è lo sguardo morale del solitario di fronte all'immoralità della società che è ovviamente quello di Chandler che poi passa anche per il Paul Schrader, che diventa più zozzo e nichilista e anche diventa più pericoloso e sbagliato in Paul Schrader, nel Travis Bickle di Taxi Driver. Che vi devo dire? Lo potete amare alla follia per tutti questi motivi, lo potete trovare invece un esercizio di stile noiosissimo. Io l'ho trovato molto forte, per esempio mi è piaciuta molto la durata, compatta, sta sotto i 90 minuti e non poteva essere più lungo. Sono un cinefilo fottuto quindi è chiaro che citare tutti questi film mi ha fatto simpatia anche perché li riconoscevo e quindi amo di quei film che al cinefilo appunto lo metti in una situazione difficile. Se ti senti particolarmente autoreferenziale ti piace, se invece trovi che il cinema debba andare avanti e debba raccontare altre storie con altri stili puoi trovarlo incredibilmente stucchevole. Io mi colloco in una posizione di mezzo, ha vinto miglior sceneggiatura a Cannes l'anno scorso e ha vinto miglior attore per Joaquin Phoenix, lui è stato molto più bravo in altre circostanze e voilà. E mi sembra che la regia più che la sceneggiatura sia da parte di Lynn Ramsey molto abile nel tenerci sempre coinvolti. C'è anche un martello che può evocare Old Boy di Park Chan-wook ma anche Equalizer di Denzel Washington. Ecco è un film che c'è a lui al certo punto che entra in un ferramenta e compra degli oggetti e non puoi non pensare anche a 50 sfumature di rosso. Quindi insomma è un film strano diretto da una regista molto scaltra nel rielaborare il cinema del passato e rimettercelo davanti agli occhi. C'è anche un utilizzo della musica in contrapunto fin troppo ostentato. Quindi canzoni molto romantiche, molto dolci, della musica pop e messe con grandissima violenza. Anche questo è stato fatto prima da tante persone. Uno dei maestri ovviamente all'inizio degli anni 90 è un signore di nome Quentin Tarantino. Ok? Quindi A Beautiful Day di Lynn Ramsey potreste amarlo o potreste detestarlo? Io mi sono collocato esattamente a metà. Comunque è uno dei film che è stato proprio più 7 minuti di Standing Ovation a Cannes dell'anno scorso. A Beautiful Day e tanto tanto cinema in un film che proprio per questo rischierà di uscire dalla vostra mente piuttosto velocemente. Ciao Betteist! Ciao!